ciao ragazze oggi video in collaborazione con un gruppo di ragazze ideato da dolce di 87 oggi vi farò vedere i miei ombretti preferiti allora iniziamo subito con questi due ombretti della astra abbiamo il numero 01 questo bianco perlato bellissimo eccolo qua veramente molto bello e poi abbiamo il numero 55 che questo color verde molto brillante eccolo qua veramente molto molto bello poi ho l'ombretto della kiko lo 05 è un marrone con i brillantini dorati questo qua e lo swatch eccolo qua questo qua poi sempre della kiko questi ombrettini qua log last in wet dry eyeshadow e questo color rosa bellissimo questo qua e lo swatch lo faccio qua guardate quanto è bello bellissimo poi passando alla palette della natural ice i colori che preferisco sono lo silk tanti questo qua poi poi il push up e o nei pot ok li metto qua eccoli qua aspettate eccoli qua sono bellissime bellissime e poi infine della palette personalizzata di neve cosmetics i miei preferiti sono l'ossigeno ok ragazzi questi erano i miei ombretti preferiti del periodo spero che vi piacciono anche a voi ci vediamo al prossimo video ciao ciao